il sito unesco il longobardi in italia i luoghi del potere 568 774 d.c. è costituito da una serie di fortezze antiche chiese ed affascinanti monasteri distribuiti lungo tutta la penisola italiana in sette aree i longobardi erano un popolo di origine germanica arrivato in italia nel sesto secolo essi dettero vita una cultura nuova caratterizzata dalla fusione tra le tradizioni romane cristiane bizantine e germaniche l'associazione italia langobardorum gestisce il sito unesco e attraverso i propri progetti mira a diffondere la conoscenza della cultura longobarda e delle eccellenze architettoniche del sito con la mostra toccar con mano i longobardi grazie ad un'esperienza multisensoriale ottimale si è innalzato il livello di accessibilità del sito raggiungendo nuovi pubblici questi video finanziati dalla legge 77 2006 del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono uno strumento di accessibilità e di alta valenza didattica per tutti un'esperienza di utilizzare aospitalia che inizia il nostro sito con la nota che inti ad un'epoca di disini la nature di corne con il diritto un'epoca per un'epoca di moda e che indi giù impafale il poco tenere il mun Ikivo del palazzo di Stavio, che ha preso il seguito di un'epoca di stato non ciò che non è un'epoca di un'epoca di brasilello che i iniziuti in un'epoca di restitore delle forme di politiche attraverso i